Quindi dobbiamo andare a uccidere la macchina La macchina La macchina La macchina La macchina È nera Guarda quanto c'è la macchina Non è molto preciso Non è molto preciso Devo andare da quella panna A fare la macchina Non ci troviamo Ehi vula Dove vai? Dove volete andare? Ma muoio Oh Iop 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 Non sei molto bravo però Nessuno di loro è molto bravo Adesso Adesso Non si Non muoio Però Un po' Un po' Un po' Ciao 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 Va bene Ciao Va bene ragazzi Credo che per questa puntata possa essere tutto Spero che questo video vi sia piaciuto Spero che questo video vi sia piaciuto Ciao 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 Ciao